Un dramma nel dramma, una storia ancora più crudele dietro l'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia, che ha registrato nove vittime e per cui si cercano ancora più di cento dispersi. Insieme a quei corpi che arrivano a galla e man mano vengono recuperati, emergono storie e racconti di chi è sopravvissuto e ce l'ha fatta, a carissimo prezzo. A ricostruire cose accadute a 55 chilometri dalle coste libiche, è stato Abdullah Denier, un giovane senegalese di 18 anni. I migranti erano partiti da Tripoli a bordo di due gommoni trainati da un'imbarcazione, guidata dagli scafisti. Su uno viaggiavano 130 persone, sull'altro 110. Troppa gente stipata, il carico eccessivo per quel tipo di imbarcazione e il gommone non ha retto, iniziando ad imbarcare acqua. Sarebbe stato necessario alleggerire il peso. Gli scafisti, racconta il giovane superstite, hanno iniziato a minacciare i passeggeri, puntando loro una pistola per consegnare i giubbotti di salvataggio, per i quali era stato pagato un surplus, che sarebbero serviti a nuove traversate, fruttando nuovo denaro. Una volta spento il motore, venivano così lasciati al mare, mentre il loro gommone sprofondava nelle fredde acque a largo del canale di Sicilia. Solo annegati a decine, noi ci siamo salvati solo, per fortuna, quando è arrivata la nave inglese che ci ha tirati su, ha raccontato il giovane, ancora sotto shock. La Bourbon Argos, nave di Medici Senza Frontiere, ha riportato a terra i 27 superstiti, ma sono ancora in corso le ricerche nella speranza, remota e illusoria, che tra i dispersi qualcuno sia riuscito a sopravvivere.